Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere intervenuti oggi pomeriggio in questa conferenza stampa. Vi ringraziamo particolarmente perché questa conferenza stampa intende dar seguito ad alcune delle indicazioni che io stesso nel discorso di insediamento come Presidente del Consiglio di Stato avevo cercato di indicare come linee fondamentali del nostro lavoro. In particolare, proprio nel discorso di insediamento come Presidente del Consiglio di Stato, avevo richiamato l'attenzione sull'importanza strategica per tutte le istituzioni moderne e attuali per la funzione di comunicazione istituzionale. Avevo scritto che la funzione di comunicazione istituzionale è essenziale per meglio trasmettere i contenuti della nostra attività, per spiegare in modo trasparente le ragioni delle nostre scelte, per comprendere ciò che il Paese si aspetta da noi. Quindi tre parole chiave. Trasmissione dei contenuti del nostro pensiero, della nostra attività, trasparenza nelle ragioni delle nostre scelte, a nostra volta comprensione e conoscenza di ciò che il Paese si aspetta dalle istituzioni. Una comunicazione istituzionale sobria nelle forme e nei contenuti appare indispensabile, dicevo, per una maggiore trasparenza e per scongiurare il ripetersi di episodi, purtroppo non infrequenti nel passato, di non adeguata comprensione del significato giuridico di alcune decisioni. Ancorché le pronunce dei giudici amministrativi abbiano un elevato contenuto tecnico, occorre tuttavia che il senso dei provvedimenti, in particolare quelli che più incidono sul tessuto sociale, sia fatto conoscere ed esternato in maniera corretta, affinché i cittadini siano sempre in grado di controllare il nostro operato. Nello stesso discorso introduttivo, io avevo richiamato l'attenzione su un altro fenomeno importante, sulla partecipazione del Consiglio di Stato, attraverso la propria funzione consultiva, al processo di riforme amministrative e istituzionali in atto. Avevo detto proprio che il Consiglio di Stato è chiamato in questi giorni a fornire il proprio contributo nella fase di predisposizione di importanti atti normativi che si apprestano a trasformare in modo profondo l'assetto dell'amministrazione e i suoi rapporti col cittadino. Anche qui, quindi, tre parole d'ordine. Processo di cambiamento del Paese, quindi processo di riforma, trasformazione dell'amministrazione come servizio al cittadino, primazia del cittadino nei confronti di qualunque altra indicazione, quindi la primazia del cittadino nei suoi rapporti con il potere pubblico. Ebbene, questa conferenza stampa di oggi, per la quale io vi sono grato alla vostra partecipazione, intende proprio dare corpo e sostanza a queste parole, fare seguito a queste parole che io avevo indicato nella relazione introduttiva. Perché vogliamo, in qualche modo, comunicare innanzitutto ai mezzi di comunicazione, ma poi ai cittadini in generale, quello che è stato l'attività, in un certo senso eccezionale e straordinaria, che ci siamo trovati a compiere, a porre in essere, a realizzare in questi primi mesi di attività. Intendo riferirmi a importanti pareri che sono stati resi con riferimento a importanti processi di cambiamento, processi di riforma in atto nel nostro Paese. Si tratta delle riforme della pubblica amministrazione riguardanti la cosiddetta legge Madia e delle riforme che riguardano i contratti pubblici, il nuovo codice dei contratti pubblici. Due riforme strategiche, sostanzialmente, per il futuro del nostro Paese. Sappiamo tutti che la questione amministrativa è una questione che è ricorrente nell'agenda dei governi ed è estremamente importante perché dalla qualità dell'amministrazione dipendono ad un tempo l'efficienza del sistema economico e anche, diciamo, la qualità del rapporto del potere pubblico con il cittadino. E' estremamente importante la riforma che riguarda i nuovi contratti pubblici, il recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti pubblici, perché il settore dei contratti pubblici è strategico, più di 10% del PIL, e perché è un luogo dove è necessario, in modo particolare, trasparenza e capacità di contrastare la mala amministrazione, di contrastare la corruzione. Che cosa ha fatto il Consiglio di Stato in questi mesi? Su richiesta del Governo, che è l'interlocutore istituzionale del Consiglio di Stato in questi casi, su questi processi di riforma, ha emanato, ha emesso ben 13 pareri che riguardano la riforma Madia, dagli oggetti più complessi, più disparati, che vi saranno poi illustrati negli interventi precedenti, e un lungo, articolato, complesso parere, espresso in solo i 24 giorni, con riferimento al nuovo codice degli appalti. Vi faccio presente che il nuovo codice degli appalti, lo schema di decreto che il Governo aveva inviato, conteneva poco più di 200 norme, e così semplificava un testo che era di 350 norme, per quanto riguarda il codice precedente, e di circa 350 anche per il regolamento precedente, che veniva adesso abolito, e su questo il Consiglio di Stato ha esercitato le sue osservazioni, diciamo alcune adesive e altre critiche, nel tentativo di indicare le strade che era meglio, come dire, intraprendere e migliorare concretamente questo testo. Questo significa sostanzialmente che noi siamo stati in condizione di dare, nonostante le difficoltà che tutti conoscono, su quelle che sono le questioni dei nostri organici, questo tipo di contributo in un tempo che effettivamente è un tempo assolutamente notevole. Il Presidente Carbone nel terzo intervento di questa giornata vi illustrerà in modo più nel dettaglio questi tempi sostanzialmente delle nostre riforme. Qui io voglio soltanto ricordare che appunto il Consiglio di Stato ha licenziato 13 pareri, di cui ancora 3 in corso di pubblicazione, ha esaminato quasi 500 articoli di legge, ha sostanzialmente redatto una serie di pareri che nel loro complesso ammontano a circa 640 pagine di scritto. Questo esame è avvenuto in poco più di 50 giorni, a partire dall'invio del pacchetto generale Madia del fine del 19 febbraio, cioè 10 pareri e più il decreto della trasparenza pubblicato in soli 12 giorni, ed è frutto di un lavoro complessivo, non soltanto di quelli che voi vedete qui, ma è frutto di un lavoro complessivo di squadra, perché in sostanza questo lavoro è stato realizzato coinvolgendo più di 30 consiglieri di Stato, tra Presidenti e consiglieri, mediante la predisposizione di una serie di commissioni speciali, predisposizione che ha consentito la resa dei pareri in un tempo relativamente breve. Sarebbero stati molto più lunghi se avessimo dovuto rispettare una sequenza temporale e non predisporre singole commissioni per esaminare nello stesso tempo e contemporaneamente tutti questi pareri. Io credo che questo contributo vada oggi sottolineato senza enfasi, ma neanche senza negarne la qualità, perché può nel nostro piccolo rappresentare un segno importante di quel cambiamento del modo di funzionare delle istituzioni pubbliche che l'opinione pubblica richiede e più spesso la stampa ha sottolineato. Si tratta in qualche modo di ricordare esperienze positive e virtuose in un momento in cui ovviamente non mancano le esperienze di altro genere. Questo non significa che le cose che noi faremo saranno sempre di questo genere, significa soltanto che vogliamo in qualche modo far conoscere questi contenuti perché questi contenuti siano resi noti al Paese. Vorrei aggiungere anche una cosa, la nostra esigenza di comunicare non riguarda soltanto la questione del metodo, del come abbiamo lavorato, del quanto tempo si è lavorato, ma riguarda ovviamente anche i contenuti di questo parere. Vi saranno indicati quindi nel dettaglio, diciamo in modo sia pure sintetico, quelli che sono i punti più importanti che hanno caratterizzato questi pareri, perché vogliamo che sia comprensibile il contributo che noi cerchiamo di dare al Paese attraverso questa indicazione di questi profili di cambiamento. Vorremmo anche che questa conferenza stampa fosse l'inizio di un rapporto di frequentazione continua fra istituzione e opinione pubblica e istituzione e mezzi di comunicazione e che quindi non rimanesse un esempio isolato. Naturalmente non si faranno delle conferenze stamp ogni giorno, ma ogni giorno potrà essere utilizzato e realizzato quel rapporto di comunicazione che deve caratterizzare un'istituzione moderna e che serve fondamentalmente per rendere concreto e reale il rapporto con il cittadino. Io credo che questo sia un risultato positivo che noi tutti possiamo riportare e che ovviamente sta non soltanto nelle nostre mani, ma anche nelle vostre, nella capacità della stampa di interrogarci, di aiutarci a spiegare le cose di cui abbiamo bisogno e di aiutarci a comprendere le esigenze che ci vengono da parte del Paese. Io credo di aver parlato anche troppo in questa conferenza, in questo intervento introduttivo e adesso vorrei dare la parola al Presidente Frattini che vi illustrerà più nel dettaglio quella che è stata l'esperienza della stesura di questi pareri. Il Presidente Frattini è il Presidente delle varie commissioni speciali che hanno sostanzialmente curato lo studio e la redazione di questi pareri. Grazie mille Presidente, grazie a tutti voi per essere qui. Come il Presidente Paino ha detto, ho avuto l'onore di presiedere i collegi che hanno affrontato richieste di parere sulle materie più disparate per le quali darò soltanto un titolo e una parola chiave perché ovviamente si tratta di 13 pareri già depositati e del parere sul Codice degli Appalti. Poi coglierò l'opportunità di questa conferenza stampa per dare una brevissima informativa anche sul parere che il Collegio ha stamattina licenziato l'ho firmato insieme al collega relatore consigliere Boccia che è qui presente sulla normativa attuativa per la cosiddetta riforma del canone RAI in bolletta che abbiamo adottato stamattina, trasmesso all'amministrazione richiedente dopo la sospensione del parere un paio di settimane fa. Il Presidente Paino ha giustamente parlato di un ventaglio molto ampio di iniziative di riforma tutte con un carattere strutturale ed importante direi che i principi chiave a cui i collegi che sono stati diversi con colleghi Presidenti aggiunti e colleghi consiglieri diversi da provvedimento a provvedimento si sono però ispirati, sono essenzialmente tre il principio che queste riforme settore per settore debbono tendere allo spirito della codificazione ad evitare per il futuro che uno sfilacciamento di iniziative settoriali in norme disparate rompa l'unitarietà della disciplina per ciascuna delle materie e questo è un punto su cui abbiamo spesso richiamato anche criticamente l'attenzione delle amministrazioni. Il secondo punto è quello dell'impatto di queste riforme. Il nostro ruolo è un ruolo che esprime un parere indipendente basato sul primato della legge e della legalità ma che ovviamente mira a contribuire a che queste riforme funzionino e in molti casi leggendo i pareri che abbiamo depositato voi troverete rilievi, notazioni critiche, suggerimenti tutti i volti a far sì che la riforma possa conseguire gli obiettivi che la legge ha stabilito e che non si incorra in pericoli dall'eccesso di delega alla violazione di una norma primaria o sovraordinata alla non comprensibilità del testo che è foriera di contenzioso e così via e qui siamo costantemente intervenuti anche in alcuni casi come leggerete e vedrete suggerendo di espungere intere norme, intere articoli che ad esempio erano estranei ad un contenuto normativo che come ho detto ad avviso del Consiglio di Stato deve rimanere ora e per il futuro sostanzialmente unitario il terzo pilastro diciamo così è di valutare l'impatto che la riforma avrà sul tessuto economico sociale il Presidente Carbone sarà più preciso su questo e verificare ex post che la riforma abbia funzionato quante riforme largamente pubblicizzate si sono poi arenate nella fase applicativa i titoli di queste riforme abbiamo cominciato con una riforma direi epocale davvero per questo istituto e per la giustizia amministrativa il cosiddetto processo telematico sembra una parola per addetti ai lavori ma insomma dal primo luglio dinanzi ai Tar tutti i Tar e al Consiglio di Stato non vi sarà nessun atto del processo che non sia telematico quindi lo diciamo con un po' d'orgoglio è uno sforzo straordinario che la Presidenza e il Segretario Generale e il Presidente Torsello stanno compiendo era un vincolo di legge abbiamo redatto il parere affinché quel vincolo sia attuato al meglio e l'intero sistema della giustizia amministrativa sarà interamente telematico poi il cosiddetto pacchetto Madia il cosiddetto decreto trasparenza e prevenzione della corruzione qui una parola chiave importante è stata e auspichiamo che verrà raccolta in pieno se il cittadino chiede di accedere a un atto o a un documento non gli si risponda con il silenzio da parte dell'amministrazione quindi sempre provvedimenti espliciti sempre motivazione del perché non si può accedere quando il Freedom of Information Act a cui si ispira questa riforma mai ha ipotizzato nel sistema americano che a una richiesta ad un cittadino si risponda con la semplice inerzia costringendo il cittadino ad andare a ricorrere davanti al giudice codice dell'amministrazione digitale una riforma anch'essa grandemente rivoluzionaria che regolerà rapporti tra cittadino e amministrazioni esclusivamente con la strumentazione telematica e qui vi sono cose che toccano la vita quotidiana dell'utente abbiamo formulato dei rilievi a cui l'amministrazione sta rispondendo immagino che risponderà positivamente sul ruolo della firma digitale che ruolo giuridico ha? che valore ha la firma digitale? ha un ruolo generale? lo ha limitato a certi effetti o no? e le imprese che possono svolgere ruoli ad esempio in questo settore debbono avere una dimensione minima per accedere a questo mercato nell'ambito del codice digitale ed è un limite tanto grande che freni la libertà di accesso a questo mercato ecco, parole chiave che però spiegano che cosa abbiamo fatto società partecipate il parere è stato recentemente depositato qui le parole chiave sono ovviamente una generalità di questa disciplina una sistema che preveda come lo svolgimento attraverso una società pubblica sia vincolato nei fini non si può creare una società pubblica solo come strumento per eludere i principi generali di concorrenza le regole di responsabilità che si applicano a tutte le società pubbliche un accento particolare sullo strumento in house spesso usato per eludere e per escludere che il Consiglio di Stato ha sottolineato nella sua eccezionalità è un parere molto complesso di decine di pagine ma qualche parole chiave è qui e poi l'accelerazione delle procedure la possibilità che si determinino iniziative di interesse strategico per il Paese per le quali il Presidente del Consiglio gli enti territoriali fissi in una procedura particolarmente accelerata e anche qui abbiamo apprezzato l'obiettivo riformatore il tema particolarmente caldo del licenziamento dei dipendenti assenteisti e qui abbiamo dovuto necessariamente suggerire delle modifiche importanti per evitare che l'obiettivo assolutamente meritorio di colpire con un licenziamento accelerato l'assenteista fosse poi vanificato da buchi normativi che avrebbero facilmente permesso al dipendente assenteista di impugnare e di ottenere magari l'annullamento con vanificazione della riforma quindi la riforma deve funzionare e per funzionare deve essere inattaccabile sotto il profilo della legittimità e quindi abbiamo svolto e il testo è pubblicato dei rilievi anche abbastanza approfonditi la scia e la conferenza dei servizi due pareri che sono stati presieduti nel collegio dal presidente Carbone se vorrà e ovviamente darà qualche indicazione più precisa è quasi pronto per la pubblicazione il parere estremamente importante sui servizi pubblici locali sul quale ovviamente non dico perché non è ancora pubblicato l'altro ugualmente importante su cui abbiamo già deciso ma il parere non è depositato la riforma delle forze di polizia che prevede tra l'altro la soppressione del corpo forestale che confluisce nell'arma dei carabinieri sarà presto pubblicato e lo leggerete e infine le autorità portuali e le nomine ASL due tematiche su cui la sottrazione alle influenze della politica è obiettivo primario della legge a cui i pareri anch'essi in corso di pubblicazione ovviamente aderiscono quanto all'obiettivo con dei suggerimenti puntuali del codice degli appalti è difficile parlare in un flash perché si tratta di oltre 200 pagine di motivazione ma certamente la linea guida che ci ha condotto con il lavoro di tanti colleghi alcuni qui presenti la Presidente De Nictolis ha lavorato moltissimo con gli altri colleghi su questo un codice degli appalti che dia unità al sistema eviti l'esistenza di norme come ho detto sparse in leggi settoriali realizzi l'obiettivo europeo di unificare i tre settori in un unico codice e ovviamente le direttive europee hanno avuto per noi la funzione di parametro anche di riferimento per la normativa che abbiamo esaminato trasparenza eliminazione di norme elusive riaffermazione della regola che l'offerta economicamente più vantaggiosa è il principio e il prezzo più basso è l'eccezione ci risulta e abbiamo visto dal testo pubblicato che il Governo si è attenuto alla larga maggioranza delle osservazioni anche critiche che avevamo formulato ma non a tutte c'è uno spazio come voi sapete per interventi correttivi che sono di competenza del Governo da ultimo una parola sul canone Rai stamani ho firmato con il collega relatore il provvedimento i quattro punti che vi segnalo sono quelli su cui il Consiglio di Stato aveva sospeso il parere formulando ecco ancora una volta osservazioni critiche su temi che se non corretti avrebbero creato al cittadino utente significativi problemi l'amministrazione ha raccolto tutti i suggerimenti e le proposte del Consiglio di Stato nella sostanza la conseguenza è che oggi vi è chiarezza con un atto esplicativo già pubblico sul sito istituzionale dell'amministrazione su quale sia il concetto di apparecchio televisivo per il quale scatta il canone quindi le polemiche i dubbi il tablet lo smartphone e quant'altro vi è una chiarezza con un atto ripeto pubblicato sul sito istituzionale vi è certezza e conferma dall'amministrazione che non vi è dubbio che se vi sono più apparecchi comunque il canone è uno e non vi sono più canoni c'è una conferma formale che noi avevamo chiesto all'amministrazione che ci aveva chiesto il parere abbiamo ottenuto su un punto molto importante l'arricchimento delle forme di pubblicità l'amministrazione si è impegnata a pubblicare sul sito istituzionale già in queste ore l'operazione è in corso moduli istanze documenti tutto quello che costituisce una sorta di facsimile che il cittadino deve usare per esercitare i suoi diritti a cominciare dalla dichiarazione di esclusione e quindi ci siamo resi conto che vi era una complessità di lettura e vi era una difficoltà di reperimento che con una previsione esplicita è stata trasformata in un obbligo di pubblicità formale di tutto questo l'altro punto critico il nuovo testo contiene la previsione che tutti i dati del cittadino utente saranno trattati secondo le prescrizioni del codice della privacy sotto le istruzioni del garante per la privacy ed è evidente che si trattava di dati destinati a circolare che andavano quindi protetti adeguatamente e questo è stato fatto e da ultimo una precisazione non secondaria si è chiarito che le aziende elettriche che saranno concessionarie per la riscossione del canone avranno una compensazione economica certamente sì ma la versione da noi approvata dice avvalere sui fondi dell'agenzia delle entrate ed in modo forfettario si è tolto ogni dubbio che l'aumento della bolletta fosse la conseguenza naturale di un pagamento che in qualche modo è dovuto alle aziende elettriche ma non sarà a carico della bolletta perché la norma specifica chiaramente dove si compensa e a carico di chi si compensa l'azienda elettrica mi fermo qua questi erano i punti passerei la parola al presidente carbone che come ricordava il presidente frattini ha presieduto alcune delle commissioni speciali che hanno portato a questo complessivo lavoro di cui oggi ci stiamo occupando grazie molto è stato già detto quindi mi limiterò a fare qualche piccolissima considerazione integrativa cercando di essere schematizzato schematico su tre punti un punto diciamo sull'organizzazione del lavoro un punto sulle materie sulla latitudine del lavoro e un terzo punto sul taglio sul metodo seguito sull'organizzazione ne ha già parlato il presidente Paino c'è stato uno sforzo organizzativo dovuto soprattutto all'esigenza di volere licenziare questi pareri tutti contemporaneamente sono arrivati tutti insieme e ovviamente sono stati impegnati tanti colleghi per gestire in parallelo e non in sequenza tutti questi pareri la durata media per ciascomo parere è inferiore al mese per tutti e tredici questi pareri insomma sono stati due mesi di grande di grande sforzo di avventura interessante tutta svolta come è stato detto al presidente Paino in aggiunta al lavoro ordinario delle sezioni le sezioni giurisdizionali e le sezioni consultive fin anche la sezione normativa di cui presidente frattini e presidenti ho l'onore di essere presidente aggiunto ha lavorato ordinariamente con altri pareri come quello sulla bolletta per il canonerai o quello sulla riorganizzazione del ministero degli esteri per cui questo sforzo diciamo fuori dall'ordinario nel senso letterale del termine ha portato però ad un lavoro importante che abbiamo cercato ecco questa è un'altra indicazione che vi può essere utile anche di rendere chiaro oltre a pubblicare immediatamente sul sito tutti i pareri che gioco forza sono voluminosi e fanno anche poi riferimento allo schema di decreto presentato dal governo quindi vanno anche letti in parallelo con la normativa abbiamo anche per la prima volta pubblicato anche una sintesi in punti schematici bullet points se vogliamo chiamarli così con il contenuto principale di ciascun parere questo ripeto sull'organizzazione e sui dati i dati li trovate i numeri di quasi 500 norme esaminate le pagine scritte li trovate anche nel materiale che vi è stato comunicato un secondo punto anche qui tirando le fila di cose in gran parte già dette sulle materie affrontate ecco forse per la prima volta è tornato davanti al Consiglio di Stato quasi tutto lo spettro del diritto amministrativo e direi forse anche qualcosa in più noi in molti nostri pareri anche in quelli che sono sembrati più dialettici o più critici addirittura abbiamo comunque sempre segnalato l'idea che la riforma della cosiddetta legge madia della legge 124 del 2015 fosse una riforma che andasse che andava nella giusta direzione perché è una riforma organica che prende la riforma della pubblica amministrazione nel suo insieme e non prende solo singoli pezzi e perché è una una riforma che ha anche un taglio innovativo noi su questo abbiamo cercato di essere diciamo consapevoli e di prendere posizione oltre a materie più tradizionali appunto sono state ricordate la riforma delle forze armate i direttori delle ASL la riforma delle autorità portuali il licenziamento disciplinare gli appalti altra materia specifica sono stati toccati argomenti più innovativi se volete propri di un'amministrazione del futuro dall'amministrazione digitale a vari temi di semplificazione la scia la conferenza dei servizi accelerazione delle procedure al tema della trasparenza è stato il primo parere che abbiamo fatto a quella delle società partecipate dei servizi pubblici che se volete sono temi che portano il diritto pubblico il diritto amministrativo in un mondo invece che non è più solo del pubblico ma entra anche nel privato il tipico caso delle società partecipate e noi abbiamo pensato che fosse giusto sottolineare questa evoluzione e anche favorirla di un diritto che non è più solo un diritto del pubblico potere ma è un diritto dei pubblici servizi proprio in quest'ottica di questa diciamo anche modernità della riforma e del nostro approccio consultivo abbiamo cercato di dare un metodo nuovo un metodo che non fosse solo un parere tecnico giuridico formale che pure è stato dato alcuni punti sono stati ricordati dal presidente Paino e dal presidente Frattini profili di costituzionalità profili di rapporto Stato-Regioni l'importanza di garantire i valori della concorrenza della trasparenza i rischi di illusioni e di maladministration ma oltre al profilo importante giuridico abbiamo cercato anche sempre di segnalare gli aspetti lo ricordava da ultimo il presidente Frattini dell'impatto concreto del funzionamento pratico della riforma il giurista deve saper capire quando una riforma ancorché scritta bene nella legge poi non è in grado di funzionare a un certo punto in un parere abbiamo scritto la vera riforma comincia dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dello schema del decreto legislativo abbiamo per fare questo anche introdotto un'altra innovazione abbiamo aperto le nostre funzioni consultive ai contributi esterni ci sono giunti contributi degli stakeholders dai sindacati alle associazioni di categoria che sono stati tutti esaminati tenendone conto ovviamente non necessariamente recependoli ultimissimo flash sulla 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 parte dell'attuazione della manutenzione delle riforme abbiamo suggerito l'istituzione di una cabina di regia che facesse una verifica exposto di quello che è il funzionamento di una riforma perché molto spesso si annuncia si prevede ma poi non si vede se funziona nella pratica un ultimo accenno mi piace farlo sulla formazione in uno dei nostri pareri in particolare quello sulla conferenza di servizi che è stata modificata dieci volte nel giro di vent'anni in tutte le legislature e da quasi tutti i governi che si sono succeduti a un certo punto abbiamo detto siamo certi che questa riforma sarà quella giusta e noi abbiamo fatto di tutto con il nostro parere per renderla il più giusta possibile ma forse c'è da chiedersi se oltre a cambiare le norme non bisogna anche cambiare i piloti che guidano la macchina trovare le persone i dirigenti con una formazione attenta che sia in grado di fare funzionare le norme pur ben scritte altrimenti si impallerà sempre la conferenza grazie a questo punto possiamo iniziare con le domande chi vuole prego se possono dire naturalmente il nome e la testata grazie sono Alessandro Vitiero del Sole 24 Ore dunque due domande veloci una tecnica e una ingenua che definirei una al consigliere De Nictolis proprio sul codice degli appalti che mi sembra abbia seguito lei in particolare come avete ripetuto più volte vi siete posti il problema dell'attuazione concreta delle norme dell'impatto sulle imprese e sui cittadini in particolare il codice degli appalti ha il problema del periodo transitorio tra il vecchio codice degli appalti e il nuovo sappiamo di cosa stiamo parlando le imprese sono in grave difficoltà per il passaggio dai vecchi contratti fino al famoso 18 aprile perché il codice degli appalti è di immediata applicazione e quelli quindi insomma il problema dell'adeguamento dei vecchi contratti questo l'avete segnalato nel parere oppure e quindi il governo non vi ha ascoltato e la domanda diciamo così ingenua è mi chiedevo come mai il governo ha inviato tutti assieme i decreti attuativi della riforma madia non mi era sentito prima oppure cosa insomma puoi rispondere subito prego prego collega tenito dunque sul transitorio per gli appalti forse devo scendere in una tecnicalità cercherò di essere più chiara possibile attenzione a non equivocare perché il codice si applica solo ai contratti nuovi quindi tutto ciò che è vecchio continuerà a essere regolato dalle vecchie regole questo sicuramente creerà qualche difficoltà in più alle stazioni appartanti che dovranno avere un doppio regime di regole però questa è la norma ed è un criterio che si è sempre eseguito anche nel codice del 2006 e anche in tutte le successive modifiche al codice del 2006 che ricordo sono state circa 50 per il nuovo quello che si era suggerito ed è stato accolto solo parzialmente era di lasciare in vita to cure il regolamento del 2010 nell'attesa dell'adozione degli atti attuativi che avrebbero dovuto operare una ricognizione delle norme da sostituire si era anche suggerito di prevedere comunque un effetto ghigliottina ad una certa data di qui a due anni per fare in modo che non ci fosse un'illusione che ad un certo punto scomparisse dall'ordinamento il regolamento invece il governo ha fatto una scelta che comunque è da ritenere giuridicamente corretta cioè ha individuato chirurgicamente una serie di norme del regolamento che sono state ritenute non più utili e quindi abrogate da subito e un'altra parte non continuerà ad operare fino agli atti attuativi in realtà il vero problema che si delinea all'orizzonte ma su questo il Consiglio di Stato non ha detto nulla e non poteva dire nulla è che siccome le direttive sono molto dettagliate secondo un principio costante sono di immediata attuazione c'è il problema che potrebbe accadere ci sono state già alcune pronunce in questo senso che anche negli appalti già pendenti e quindi nei contenziosi pendenti si invochi l'applicazione immediata di alcuni principi delle direttive quindi al di là della regola transitoria fissata faccio un esempio che è quello più clamoroso e quello che tocca tutte le imprese da vicino è quello dell'avvalimento di altre imprese per arrivare ai requisiti richiesti ed è probabile che si potrà immediatamente utilizzare le regole meno severe delle direttive rispetto alle regole precedenti già nelle gare in corso non so se sono stata esaustiva sulla seconda parte risponde il Presidente Paese la seconda domanda è molto semplice la legge Madì è stata approvata ad agosto come voi sapete il governo poi ha cominciato a lavorare sull'elaborazione di questi schemi dei decreti delegati quando questi schemi sono stati pronti li ha trasmessi nel frattempo come voi sapete decorrono i termini per l'esercizio della delega quindi il governo ha prima approntato i testi e successivamente non appena approntati li ha mandati sostanzialmente al Consiglio di Stato l'operazione non è finita perché i decreti delegati dalla riforma Madia sono circa una ventina ne sono stati già mandati praticamente undici quindi aspettiamo i prossimi nei prossimi giorni e quindi questo è un meccanismo che è naturale lì dove c'è una legge di delega e poi l'adozione di una serie di decreti delegati anzi bisogna dire che questo invio in termini più o meno contemporanei ha consentito a noi stessi di avere un quadro d'insieme non semplicemente c'è un quadro dato solo dalle norme della legge di delegazione ma anche dal modo come queste norme erano state interpretate ed applicate e riportate in ciascuno dei decreti delegati aggiungo poi che in questo stesso periodo è pervenuto il parere sullo schema dei contratti pubblici sullo schema per il parere riguardanti il nuovo codice degli appalti voi sapete che questo codice degli appalti doveva essere in gazzetta ufficiale entro il 18 aprile di quest'anno ed è appunto stato entrato in gazzetta ufficiale prima di questo termine prego ah in tasto quello perfetto non lo capivo senta allora volevo chiedervi Eva Bosco dell'Ansa una precisazione sulla parte del canone Rai cioè volevo capire se possiamo considerare quello che ci avete detto un via libera definitivo cioè definitivo senza alcun rilievo residuo cioè tutti i punti sono stati superati non c'è più nessuna osservazione che residua nel parere definitivo che avete fatto e poi sulla parte che riguarda le aziende concessionarie le aziende elettriche volevo capire bene cioè significa in sostanza che le aziende elettriche hanno una compensazione che sarà coperta dall'agenzia delle entrate con nessun aumento per il cittadino se vado a riassumerla in maniera proprio semplice sì sì è cambiato il testo dalla prima formulazione alla seconda è stato aggiunto che la compensazione per le aziende elettriche è non solo forfettaria il che vuol dire che non si possono accorgere un domani che prendono troppo poco e quindi chiedono di più ma è a valere sugli stanziamenti e sui fondi che in bilancio sono destinati all'agenzia delle entrate questa è una precisazione che è stata introdotta non a caso nella seconda versione del testo noi abbiamo dato un parere favorevole abbiamo quindi il testo è approvato abbiamo introdotto un suggerimento che ci auguriamo l'amministrazione accolga che è quello di rendere direi ordinaria e ad amplissimo spettro la pubblicità di tutti gli atti moduli modelli e quant'altro non solo in questa prima fase di applicazione ma tutto quello che a regime dovranno fare i cittadini sulla base di atti e di documenti predisposti ivi comprese le istruzioni dell'amministrazione noi abbiamo detto vengano pubblicate con la massima diffusione possibile anzitutto sui siti istituzionali e vengano pubblicate con un linguaggio chiaramente comprensibile e non addetti ai lavori questo lo abbiamo introdotto ed è assolutamente compatibile con il parere favorevole perché non è una vizio del provvedimento ma è un auspicio che ripeto l'amministrazione non dovrebbe avere alcuna difficoltà ad accogliere tanto che ci risulta che i primi le prime istruzioni le stanno già pubblicando sui siti istituzionali quindi mentre prima nella versione precedente questo non era detto ecco altre domande? nessun'altra domanda? va bene allora grazie grazie a tutti